buona giornata amici siamo pronti per la rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali come sempre resto velcarlino corriere adriatico con cronaca locale lasceremo le notizie di carattere nazionale che purtroppo sono piene di cronaca sono piene appunto di drammi e di violenze che accadono un po' in tutto il mondo non ci limiteremo alla nostra realtà locale alla terra marchigiana prima passiamo però attraverso l'almanacco del giorno per vedere il santo che si festeggia oggi oggi è san bruno san bruno un monaco ma anche un erimita nacque a colonia nel undicesimo secolo fu apprezzato per la sua vita semplice ma ricca di cultura e di opere scritte san bruno monaco e vediamo le previsioni del tempo cambia poco oggi sulle marche rispetto ai giorni scorsi vediamo che il tempo sarà stabile con velature di passaggio durante la notte in diradamento però dal mattino insomma le nubi che hanno così che sono passate nel nostro territorio durante la notte si stanno diradando le temperature sono stazionarie la minima 14 la massima 24 gradi i venti deboli sulle coste da direzione nord nell'entroterra da nord est e il mare è leggermente mosso questa è un po' la situazione ambientale che fa sì che nel nostro territorio perduri ancora l'estate e le previsioni dicono che questa situazione durerà fino a metà ottobre e allora apriamo i giornali per dare un'occhiata alle notizie con cronaca locale vediamo l'apertura sul Corriere Adriatico e ieri si è parlato molto di waterfront ovvero di lungomare come preferisce dire il dirigente del liceo Nolfi Apolloni Samuele Giombi un nuovo progetto che rivoluzionerà l'immagine del lungomare di Sassonia dall'anfiteatro Rastat quando poi verrà realizzato anche il secondo stralcio di questo intervento fino ad Arsena Borghese e si collegherà quindi con la passeggiata romantica che al momento arriva fino al ponte della ferrovia ma l'intervento più importante sarà realizzato proprio nella zona dell'anfiteatro Rastat che cambierà radicalmente il volto e ieri durante un incontro che si è svolto nella sala assemblea del Marine Center ovvero l'ex laboratorio di biologia marina è stato illustrato questo nuovo progetto che sarà di imminente realizzazione i lavori infatti dovranno cominciare tra 15 giorni quindi siamo proprio agli sgoccioli di tutto l'iter burocratico sono intervenuti il sindaco Massimo Seri e gli assessori Barbara Brunori ai lavori pubblici ed Etienne Lucarelli al turismo sì perché questo intervento riguarda molto anche l'immagine della città e quindi anche il turismo ebbene il sindaco ha insistito molto su tutti i cambiamenti che la città ha subito in questi ultimi tempi un'immagine di città bella Barbara Brunori invece ha spiegato tutti gli interventi che verranno fatti interventi che si collegheranno poi con quanto si sta facendo in piazzale Rosselli e quanto si farà anche qui tra pochissimi giorni su Viale Battisti dove verranno riqualificati i controviali e quindi anche l'immagine che si vedrà dalla sommità del ponte della ferrovia fino al mare sarà completamente innovativa erano presenti anche i giovani progettisti di questo intervento molto innovativo un intervento dicevo radicale che trasformerà tutta la piazza antistante al hotel Cristallo in un'area verde con alberi, camminamenti, aiuole insomma sarà veramente una cosa completamente nuova chi vuole saperne di più può leggere gli articoli che appaiono oggi sui giornali sul Corriere Adriatico centro collegato meglio con il mare waterfront il nuovo volto di Fano e anche il resto del Carlino ovviamente interviene su questa notizia così il waterfront cambierà il volto della nostra zona mare e qui viene pubblicato un rendering ovvero un'immagine di come sarà la piazza antistante retrostante l'anfiteatro Rastat e a fianco l'hotel Cristallo vediamo qui tanta vegetazione, vediamo i vialetti, panchine insomma veramente sarà un punto di passeggio, di sosta, di incontro continuiamo le notizie sul Corriere Adriatico dove vediamo che c'è una presa di posizione con l'apertura della seconda pagina a favore del monastero dei Trappisti a Montegiove che ancora deve ricevere la sua approvazione in Consiglio Comunale ebbene è una delibera questa un po' ballerina insomma più volte è stata messa all'ordine del giorno e più volte è stata ritirata perché probabilmente e ovviamente la spiegazione non è stata data in questo senso ancora non è chiaro se tutti i consiglieri di maggioranza sono disposti a votarla comunque in questo caso l'appoggio viene dalla controparte ovvero dal centrodestra ed è una presa di posizione dell'onorevole Antonio Balvelli che dice che il monastero è una opportunità anche per il turismo religioso il deputato di Fratelli d'Italia si pone contro una ostilità preconcetta all'insediamento dei Trappisti ebbene già quello che si è verificato a Montegiove ma anche in altre realtà religiose del nostro territorio ha deposto in maniera favorevole per un fervore culturale per un sviluppo turistico della questione da Fonte Avellana ai Capuccini di Fossombrone ai monasteri che rappresentano una opportunità e una risorsa a Fano invece sembrerebbe di no perché c'è una forte resistenza nei confronti dell'approvazione di questa variante che autorizzerebbe la trasformazione di una zona alle spalle del convento dell'eremo di Montegiove in una trasformazione da area agricola a area appunto per un insediamento di un convento a Montegiove già recuperata una casa colonica dai frati Trappisti insomma è una cosa di loro proprietà e i terreni avviati alle culture biologiche insomma loro si sono praticamente già insegnati già insediati e a questo punto chiedono appunto di realizzare il convento la piccola chiesa con piccolo campanile a vela non è che svettono torri anzi Baldelli dice svettono più le antenne della telefonia mobile che le strutture dei religiosi in questo terreno in questo colle di oasi di pace e di spiritualità vediamo ora le altre pagine con cronaca locale siamo a Fossombrone dove l'esponente dell'opposizione Fabio Londèi critica come vengono usati o non vengono usati perché non sono stati richiesti i fondi del PNRR parziali gli atti ricevuti nonostante la richiesta che è stata fatta si accende dunque il dibattito nella città metaurense un dibattito politico a due anni dall'insediamento della giunta in carica a Fossombrone non sono arrivati i milioni di euro del PNRR dei quali il sindaco aveva parlato nella riunione con gli operatori del settore edilizio che erano in attesa appunto di fondi per incrementare la loro attività Fabio Londèi che è già stato candidato sindaco nelle ultime elezioni insiste e dice che non si sa nulla dell'istituzione dell'annunciato ufficio Europa che avrebbe dovuto fare quei progetti che poi hanno la possibilità di richiedere fondi del PNRR il comune di Fossombrone ha acquistato la piscina ebbene quella stessa definita dal vice sindaco Chiara Billi ricorda Londèi e bomba ecologica e quindi insomma un provvedimento certo non opportuno secondo l'esponente dell'opposizione e poi infine non sono stati completati gli interventi edilizzi avviati dalla precedente amministrazione insomma un po' una situazione di stallo che ha frenato lo sviluppo di Fossombrone e poi a fondo pagina abbiamo la manifestazione del cavallo a Cantiano il cavallo del Catria una razza autoctona del nostro territorio la fiera è stata presentata a Roma dal deputato Carloni e dal ministro Lolo Brigida si terrà domenica 8 e poi domenica 15 due giorni quindi di grande afflusso di gente nella zona di Cantiano a Pergola a Pergola sono stati eseguiti lavori per 5 milioni e 200 mila euro marche multiservizio in aiuto degli alluvionati sono state realizzate fogne acquedotti e poi a Cagli è stato dato il via all'ultimo dei 25 interventi per 600 mila euro insomma in totale ammontano ad oltre 5 milioni di euro i lavori urgenti realizzati da marche multiservizi nei 5 comuni più colpiti dall'alluvione quali sono questi 5 comuni sono Cantiano Frontone Pergola Serra Sant'Abbondio è appunto Cagli e quindi un intervento considerevole c'è anche una dichiarazione dell'amministratore delegato Tiviroli che dice che per anticipare i tempi c'eravamo già attivati per i materiali e l'affidamento dei lavori ovviamente precorrere i tempi fare alla svelta costituisce un input necessario per cercare di ristabilire quella normalità che è stata sconvolta letteralmente dall'ultima alluvione infortuni sul lavoro anche questo è un problema incombente sempre emergente anche nel nostro territorio infortuni sul lavoro in calo per fortuna malattie però sono in aumento domenica ci sarà l'annuale celebrazione dell'ANMIN che è l'associazione nazionale invalidi sul lavoro a Mondolfo dove verrà appunto reso noto il bilancio provinciale sarà a Mondolfo ad ospitare la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ebbene questa iniziativa è promossa dall'ANMIN che quest'anno addirittura celebra anche gli 80 anni un significativo anniversario della sua fondazione e qui verranno dati veramente tutte le percentuali tutti i dati sia gli infortuni che si sono risolti con una malattia purtroppo dei soggetti che sono stati implicati ma anche degli infortuni mortali che non sono rari neanche nel nostro territorio e passiamo a Senigallia a Senigallia si parla di viabilità ma soprattutto si parla di interventi per cercare di frenare la velocità pericolosa in certe strade molto urbanizzate la chiave della mobilità sostenibile è quello di insomma instaurare in tutta la città i 30 km orari cioè non bisogna superare questa velocità la proposta è della CIS e della ADConsum un'associazione che tutela i consumatori i quali chiedono anche di allungare i tempi dell'arancione per il T-RED in modo da far sì che ci siano meno multe perché poi è difficile riuscire a frenare in tempo quando scatta l'improvviso l'arancione nei semafori CISL e ADConsum chiedono appunto di allungare questo tempo per una maggiore sicurezza e chiedono soprattutto una città a 30 km orari non solo zone 30 oltre a busse e navetta per collegarla con le frazioni abbiamo quindi la richiesta di una mobilità più sicura più tranquilla meno pericolosa ebbene gli aggettivi in questo caso potrebbero spiegarsi e vediamo qualche notizia di Pesaro l'apertura è dedicata oggi dal Corriere Adriatico all'ospedale di Muraglia lo vediamo qui spicca in questa fotografia aerea e questa macchia bianca che vediamo qui immersa nel verde della collina del 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 Monte interdizio appalto da 18 milioni solo per il progetto 26 giorni per l'offerta 4 mesi per realizzare appunto il progetto si parla del nuovo ospedale lo studio di fattibilità tecnica ed economica vale 7,5 milioni poi c'è l'opzione della regione per affidare al vincitore anche la direzione dei lavori ecco perché poi la cifra sale a 18 milioni e sono cifre importanti poi costa ovviamente molto di più realizzare l'opera ma ormai sembra che siamo incamminati nel percorso che dovrebbe così accelerare i tempi per giungere alla meta vediamo quello che invece ci evidenzia questa tabella che appare sul Corriere Adriatico parla ovviamente diffusamente della nuova struttura ospedaliera di Buraglia 204 milioni e il costo complessivo compresa la progettazione quindi compresi anche questi 18 milioni 9,3 milioni e invece la progettazione tecnica ed economica alla quale poi va sommata come avevo visto la direzione dei lavori per un totale di 213,3 milioni di euro questa è la cifra complessiva che dovrebbe costare il nuovo ospedale per la progettazione tecnica sono stati assegnati 120 giorni almeno tre anni per la progettazione esecutiva prima poi per vedere quello che nascerà ci vorrà ancora del tempo e il 30 ottobre 2023 è la scadenza delle offerte per la progettazione di fattibilità e la direzione dei lavori opzionali insomma qui si può scegliere e poi vediamo altri fondi che ha così annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli fondi per quattro comuni che potranno aiutare cittadini e imprese riguardano la messa in sicurezza del territorio un milione di euro messi a disposizione dalla regione lo ha comunicato l'assessore Francesco Baldelli indicando le quattro località che usufruiranno di questi fondi si tratta di Cagli Cartoceto Marotta e Sant'Angelo Invado le risorse sono state stanziate grazie appunto alla disponibilità della protezione civile della regione e poi ci sono tutti i dettagli e delle cifre che verranno finalizzate a questa o a quella opera per esempio 300 mila euro verranno destinati all'area dell'ex campo portivo Santa Croce di Cagli e poi via via tutto il resto viene elencato in questo articolo ed ora parliamo di una struttura strettamente necessaria a Pesaro ma anche in altre località della provincia altre località portuali ovviamente Fano è una di queste la cassa di colmata la cassa di colmata dovrebbe essere quel contenitore in cui dovrebbero essere riposti i fanghi che vengono prelevati dal porto di Pesaro ovviamente poi anche di Fano ma non in questo caso perché la cassa di colmata che verrebbe realizzata nei pressi del colle Sambartolo dovrebbe essere destinata secondo quello che afferma Biancani solo ai fanghi prelevati nel porto di Pesaro e lo dice come monito all'autorità portuale non possiamo smaltire i materiali di dragaggi di altri scali e Fano è in attesa di una cassa di colmata di Ancona dove trasferire i fanghi ora depositati sulla banchina del porto ma anche nell'area di Fantasy World di Torrette da tanti tanti anni questa cassa di colmata di Ancona che dice che è pronta che dice non manca niente però insomma ancora non viene resa disponibile per prelevare questa montagna di terra che deve essere smaltita secondo diversi criteri Nidi e asili nuovi sostegni per i bimbi e famiglie secondo un progetto del labirinto che coinvolge 12 ambiti sociali delle Marche il via da nuvole di cotone quindi anche qui abbiamo un sussidio in più per le famiglie che ne hanno bisogno e anche io avrei una letterina dice un nonno un nonno che abita in via Milite ignoto dopo che un bambino che ha scritto al sindaco Matteo Ricci ha ottenuto che la sua strada fosse così interessata dei lavori di bonifica perché era piena di buche ebbene ce ne sono tanti altri casi di questo genere e anche un nonno ha preso carta e penna e ha scritto la sua letterina al sindaco Ricci perché via Milite ignoto è una via piena di rattoppi e di voragini e quindi dovrebbe essere asfaltata di nuovo e poi vediamo la pagina di Urbino eccola qua dove vediamo una presa di posizione netta decisa dell'arcivescovo di Pesaro ma anche di Urbino Monsignor Sandro Salvucci ebbene Monsignor Sandro Salvucci in occasione della festa del 4 ottobre festa di San Francesco festa in cui il Papa Francesco ha reso noto un suo scritto di carattere ecologico di carattere ambientale che si collega un po' alla sua enciclica precedente quella che aveva fatto che ha fatto tanto scalpore in tutto il mondo ebbene Monsignor Salvucci prende posizione a favore del comitato che protesta contro la discarica di riceci come chiesa e come arcivescovo ho voluto esprimere ha detto il prelato il mio sostegno la mia adesione al comitato che si sta battendo per impedire questo progetto che avrebbe un impatto ambientale enorme in un territorio già provato dalla perdita di abitanti un territorio potenzialmente molto bello oltretutto a due passi di urbino in un panorama di colline straordinario quindi non si può rovinare un paesaggio simile secondo appunto il prelato ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino il resto del Carlino ha una notizia una notizia un'anticipazione che ovviamente però deve essere provata ma insomma un'anticipazione interessante a Fano arriverà nel 2024 il Giro d'Italia una tappa una tappa che si collega a quanto avvenuta alcuni anni fa che ha tirato nella città della fortuna tantissime tantissime persone e per inciso devo dire che ha così incentivato l'amministrazione comunale ad asfaltare tante vie insomma fare quegli interventi di arredo che rendessero un po' l'arrivo del giro più confacente all'aspetto di una città accogliente arriva il Giro traguardo in città il 16 maggio prossimo la corsa partirà dall'Abruzzo Bissa a distanza di pochi mesi dall'arrivo della tappa di Fossombrone insomma prima Pesaro poi Fossombrone ed ora anche Fano devo dire che il Giro d'Italia non disconosce il nostro territorio Bissa a distanza di pochi mesi della nostra provincia che fu già coinvolta l'anno scorso con Fossombrone ebbene un po' tutto però è al momento indeciso l'arrivo dovrebbe essere come abbiamo detto il 16 maggio con la provenienza della corsa dal sud ed in particolare dall'Abruzzo e poi il Carlino dice se queste anticipazioni fossero come sembra ormai scontato confermate avremmo un bis a distanza di 12 mesi dall'arrivo di Fossombrone nel 2023 a quello di Fano a maggio del 2024 la tappa adriatica prevede una partenza in Abruzzo e un arrivo a Fano niente male per chi è riuscito ad ottenere per la nostra provincia dagli organizzatori del Giro questa decisione una decisione che poi verrà così evidenziata con grande clamore da tutti i mezzi di informazione l'arrivo del Giro d'Italia viene trasmesso in diversi paesi del mondo e quindi anche Fano avrà il suo resoconto promozionale vediamo le altre notizie ci sono ancora timori e proteste per quanto riguarda la sostenibilità del ponte di Viale Cesare Battisti e una sicurezza sul cavalca ferrovia i residenti tornano alla carica dopo quanto denunciato da Sergio Schiaroli ora ci sono altri cittadini che temono insomma c'è anche qui l'ex segretario di circoscrizione Orlando Minardi Serra che segnala anche qui anche lui delle carenze di questo ponte che la cui realizzazione è stata appartiene a molti molti anni fa quindi col traffico attuale qualche struttura potrebbe essere non conforme alla evoluzione appunto del peso che dovrebbe sostenere e poi abbiamo la notizia di una persona di cui non si sa nulla da molto tempo si tratta di Maurizio Cesaroni a cui la trasmissione Chi l'ha visto ha dedicato una puntata Maurizio è sparito nel nulla il caso a Chi l'ha visto sono trascorsi ormai tre mesi e mezzo dalla scomparsa di questa persona di 68 anni pizzaiolo in pensione ancora nessuna segnalazione in città è un volto noto Cesaroni dormì per mesi in auto all'interno dell'ex caserma dell'ex caserma Paolini la città si immobilitò per aiutarlo e poi improvvisamente scomparso e di lui ancora non si sa nulla quindi fervono in modo particolare tutte le ricerche ed è morto l'industriale Sisi la figlia una crudeltà non poterlo vedere era il fondatore della vetroplasta aveva 98 anni si è spento all'ospedale Santa Croce di Fano oggi i funerali l'amarezza ovviamente dei parenti che non lo possono vedere i funerali si svolgeranno alle 15.30 nella chiesa di San Cristoforo ebbene la morte di Sisi ha destato commozione in città non solo nell'ambito dell'imprenditoria dove era particolarmente noto ma perché si tratta di una figura molto stimata in vari ambienti cittadini da diversi anni ormai aveva lasciato la guida della società nelle mani della figlia e del nipote Mario insomma una persona che la cui scomparsa si piange e poi parliamo ancora dei Malatesta siamo ormai in conclusione perché in questo fine settimana fermano le iniziative culturali dei Malatesta a Fano ci saranno tante presentazioni di libri che insomma informano sull'atmosfera sui personaggi sulla cultura del Medioevo a Fano concludiamo la nostra rassegna stampa con la pagina di Urbino dove è stata completata l'urbanizzazione a Castaccolo Gambini il Sindaco tanti lavori fatti attorno al Santuario e qui vediamo appunto il Sindaco con le altre persone dietro il Santuario è tutto per il momento terminiamo qui la nostra rassegna stampa vi do appuntamento domani alle 7 come sempre intanto vi auguro buona giornata